Abbiamo dato una situazione e quindi dobbiamo partire con la massima cautela che la notte isolata dall'esterno. Loro sono dotati di un sistema di isolamento completo e hanno dato l'uspiratore all'esterno. Comunicazione di araro, conica, e questi attacchi possono avvenire in sistema combinato. Qualcosa di immediato. È sicuramente un bel esempio di come la difesa possa dare un valido contributo al sistema paese svolgendo efficacemente i suoi compiti istituzionali e allargandone i benefici al mondo civile sulla base delle sue competenze, sulla base delle sue esperienze e che per loro natura richiedono spesso la ricerca di soluzioni a problemi particolarmente complessi. Sin dai primi giorni della pandemia la scuola NBC ha nel contempo garantito insieme alle altre articolazioni della difesa un contributo che io non esito definire qualificato e anche insostituibile attraverso l'impiego del proprio personale in molte attività a favore della popolazione. Mi riferisco alla realizzazione dei video filmati sulle modalità e procedure di decontaminazione e disinfezione da Covid-19 all'intervento presso la Residenza Sanitaria per Anziani Santa Lucia per la disinfezione, il supporto logistico e la predisposizione di tre assetti per il pronto intervento e concorso alle autorità civili del territorio. A questo importante sforzo si è aggiunta la recente inaugurazione del nuovo hub vaccinale anti-Covid proprio qui a Rieti all'interno della caserma Verdi e Rosi frutto della sinergia e della collaborazione proficua tra la scuola NBC, l'ASD e Rieti e l'assessorato regionale alla sanità. È un esempio, è un altro risultato importante, un ulteriore impegno che da oltre un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria conferma come la difesa abbia dato e continua a dare un contributo essenziale nel contrasto alla pandemia per vincere la corsa contro il tempo e concludere nei tempi previsti la campagna vaccinale.